Nel 2018, secondo i dati aggiornati a ieri, la media delle polveri sottili PM10 ha superato la soglia d'allerta in ben 46 giorni, quando la legge sulla qualità dell'aria ne consente solo 35 all'anno. Nemmeno in un anno decisamente più piovoso della media dell'ultimo decennio è stato possibile alla città di Cremona scendere sotto una soglia che viene violata ormai da decenni. Nel 2017, Cremona è stata seconda nella graduatoria nazionale delle città con l'aria peggiore dietro Torino e davanti ad Alessandria. Allora, i giorni oltre il limite di 50 microgrammi per metro cubo sono stati ben 105. Quest'anno il dato della centralina ARPA di Via Fatebene Fratelli, usata come punto di riferimento nel corso degli anni, è dimezzato, ma non meno inquietante, perché in un anno piovoso l'inquinamento da ozono è stato elevato e frequente d'estate, mentre negli ultimi giorni il dato del biossido di azoto, pur sotto la soglia, è anch'esso salito. Dicembre potrebbe concludersi senza precipitazioni in evento, quindi Capodanno porterebbe a un nuovo blocco del traffico per l'eccesso di polveri cancerogene. La preoccupazione dei cremonesi è assai elevata, come dimostrano i continui interventi sui gruppi internet. C'è la consapevolezza diffusa che il clima è da sempre sfavorevole alla dispersione delle sostanze inquinanti emesse dal traffico, dal riscaldamento, dall'agricoltura e dall'industria. Sostanze, oltretutto, possono provenire in due giorni, per quanto debole sia la ventilazione, da zone come il Bresciano e il Milanese. Ieri, in Via Fatebene Fratelli, le PM10 sono arrivate a 71, in Piazza Cadorna a 68, a Spinadesco a 66, mentre a Soresina il dato è 55 e a Crema a 67. Alla sensibilità dei cittadini corrisponde però la freddezza della pubblica amministrazione, che non ha mai preso provvedimenti efficaci per migliorare la qualità dell'aria. Le quattro regioni della pianura padana hanno segnalato nei giorni scorsi al Governo di non poter far rispettare la soglia delle polveri sottili previste dalla legge.